guardate ragazzi c'è uno stormo di uccelli guardate ecco sta tornando indietro ecco fortunatamente sta tornando indietro per il bellissimo spettacolo guardate ci stanno salutando guardate quante ce ne sono è una figata assurda dal video non rende tanto ecco adesso un po si purtroppo non si vede tanto dal video ma dalla realtà è molto più bello sembrano 800 800 mila mosche dentro casa guardate pure laggiù è una figata assurda ebbene ragazzi con questo stormo bellissimo di uccelli che era da un po di tempo che non ne vedevo uno così bello ci salutiamo gli uccelli se ne vanno adesso nei posti più caldi adesso ci stavano ci stavano facendo l'ultimo saluto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.